Roana ha incendio nella notte in via Capitello a prendere fuoco una legnaia a ridosso di un'abitazione. I pompieri, intervenuti da Asiago con un'autopompa e un'autobotte, hanno spento le fiamme del deposito di legna, evitando così il coinvolgimento della casa. A dare l'allarme il proprietario, che ha subito cercato di limitare il rogo, gettando secchi d'acqua fino all'arrivo dei vigili del fuoco, danneggiato dalle fiamme l'isolamento esterno del muro dell'abitazione.